Benvenuti, oggi vi vorrei portare con me in un viaggio. Quindi faccio le valigie, saltate dentro che si parte e andiamo alla scoperta del pallone. Perché in realtà, ragazzi, lo so che lo diamo un po' per scontato, questo giocattolo, la palla, sarà semplice costruirla. Purtroppo non è così e ci avevamo messo tanti anni, infatti, per costruirla. Però, appunto, perché la possiamo utilizzare oggi come la adoperiamo? Quindi calciandola anche con forza, prendendola pure di testa, indirizzandola proprio dove vogliamo noi, no? Nel punto preciso, quindi deve essere, che caratteristiche deve avere? Beh, deve avere il materiale giusto, che sia molto resistente, però anche leggero. Deve avere una forma sferica, no? Perché così rotola, così è regolare, quasi regolare in tutte le sue forme, però creare una sfera perfetta è molto difficile, è molto difficile. Quindi bisogna più o meno andare lì vicino, bisogna cercare di avvicinarci, sì. Ci abbiamo messo veramente tanti anni, circa 100-150 anni, da quando abbiamo iniziato con il calcio, come lo intendiamo noi oggi, agli albori, prima di trovare il pallone, una palla che faccia per noi. Siamo partiti, per esempio, avendo dei palloni, delle sfere circolari, composte da dei tessuti compressi, quindi stracci, tessuti compressi, che però facevano risultare il pallone poco stabile, poco resistente, con gli urti, le botte che doveva prendere, si sfaldava, si deformava, poi era anche pesante, quindi niente, siamo andati avanti così un po' di anni, ma poi si è passati a un'evoluzione. La vescica di maiale. Perché sono delle membrane molto più resistenti degli stracci messi assieme, quindi molto più resistente, quindi poteva mantenere la sua forma. Il problema è che, caspita, mettere tutte queste membrane assieme, compresse, perché ragazzi, era pieno una volta il pallone, non ci avete mai pensato, però provate a pensare a un pallone pieno. Quindi il problema era che pesava tanto, perché ragazzi, anche la carta pesa poco, no? Prendi un foglio, però se tu comprimi, per far mantenere una forma, comprimi la carta, pensate a un dizionario, io non so quanti di voi abbiano il coraggio di vedersi un bel dizionario a 40 metri, che è spiovente, un bel cross, un dizionario che parte, e tu devi cacciarlo dentro con la testa in rete e te lo prendi a 40 metri. Secondo me vi scansate. E quindi niente, siamo passati ancora oltre questa cosa qua della membrana e siamo arrivati alla camera d'aria, quindi quasi al 900, quasi al 900 con la camera d'aria che ha sistemato il problema del peso fondamentalmente, no? Perché tu hai all'esterno c'era del cuoio, però dentro era vuoto, cioè era aria, quindi fondamentalmente il peso è molto meglio, riesce a colpirlo, riesce a giocarci, a controllarlo meglio, però comunque il problema è che il cuoio che c'era all'esterno formava 12 strisce, c'erano 12 fasce, 12 strisce di cuoio e questo lo rendeva un po' instabile, anzi più che instabile, irregolare, perché c'erano le cuciture e quindi se tu colpisci il pallone nella cucitura magari ti va, ti prende le direzioni strane, quindi non è ancora perfetto. Insomma bisogna perfezionarlo, questo pallone, adesso parliamo non di materiale, parliamo di figura, perché dai col cuoio ci siamo, cuoio con la camera d'aria dentro, una figura, un solido regolare, ovviamente che ci si avvicini più possibile a una sfera e qui ci rifacciamo ai solidi, quali sono i solidi regolari? Allora torniamo un po' da Platone, qui dentro ci sono tutti i solidi regolari che Platone ha stilato nella sua lista, no? come i soliti regolari esistenti. Ebbene, allora vi faccio vedere quali sono, così decidiamo assieme quale forma vogliamo dare al nostro pallone, che ovviamente deve tendere a essere una sfera, la sfera è difficilissima da creare, da mantenere, quindi bisogna trovare la cosa che più ci assomiglia. Allora partiamo dal primo, eccolo qua. Questo ragazzi, sapete cos'è? Non è un triangolo, perché il triangolo ha due dimensioni, questo ha tre dimensioni, è un tetraedro, ok? Quindi quattro facciate triangolari, però è un po' tanto aguzzo, forse è meglio di no, no? Cambiamo e dal tetraedro passiamo all'esaedro, sei facce, il famoso dado, quello che utilizziamo quando giochiamo a Monopoli, a Risico, no? Sei facce, eccolo qui, però, insomma, sì, già meglio, ma giocare con una palla quadrata, forse è meglio di no. Non è sufficiente. Niente, bisogna passare a qualcosa di meglio. Facciamo l'ottaedro, aggiungiamo due facce, beh, questo è già un po' meglio, una specie di rombo tridimensionale, però, insomma, no, no, non ci siamo, non ci siamo ancora, non ci siamo, bisogna migliorare. Il decaedro, qua ci siamo, ci si avvicina un pochino, eh, alla forma circolare, vedete che lo sto girando, però, insomma, questa cosa qui, guardate, questa cosa guzza, insomma, no, si può fare meglio. Oh, questo è interessante, il dodecaedro, dodici facce, dodici pentagoni, dovrebbero essere, se non sbaglio, il dodecaedro, eh, questo è interessante, infatti lo usavano, usavano delle palle fatte in questo modo qui, nell'antica Grecia, così, per dei giochi tipo pallamano, queste cose qua, però non è ancora perfetto, e quindi arriviamo, arriviamo all'ultimo, all'ultimo solido regolare, a ventifacce, ventifacce triangolari, questo, dai, assomiglia veramente tanto a una palla, ci assomiglia tanto, dai, e è licosaedro, ragazzi, licosaedro, torniamo un attimo da noi, mettiamo l'autofocus giusto, ok, licosaedro era utilizzato, era utilizzato nell'antichità, dai greci, in un gioco che si chiamava, episciro, o epischiro, non mi ricordo più di tonghi come si pronunciano, eh, liceo classico, l'episciro, era un gioco molto simile al calcio, l'antenato del calcio storico fiorentino, no, chi è toscano, forse ne ha sentito parlare, comunque, fondamentalmente, era un gioco simile al calcio, perché si poteva comunque, c'erano due squadre, due squadre, circa 12 persone, più o meno, per squadra, e fondamentalmente, beh, le squadre dovevano lanciare il pallone, più indietro rispetto a, c'erano le linee, no, le linee finali, ok, del campo, dovevano lanciarlo più indietro, in modo tale che, che una squadra, andasse dietro a quella linea, in poche parole, quindi, era un gioco, un po' simile al calcio, perché comunque c'è attacco e difesa, però comunque, era un antenato, chiaramente, la palla non si colpiva sempre, non si portava con i piedi, non è che si doveva controllare, la si controllava con la mano, la si portava, e casomai la si calciava solo, si faceva rimbalzare calciandola, con il piede, per darle più slancio, più forza, per quel momento lì, bastava l'icosaedro, anche se non era esattamente una sfera, era una, era molto violento come gioco, comunque, l'episciro, tra l'altro, episciro, interessante l'etimologia, perché, io come un pazzo ho cercato di venirne a capo, la prima, il primo verbo che mi veniva in mente in greco era episcuo, questo qua, il primo, quello in alto, questo qua, episcuo, che però significa rendere forti, quindi, boh, non mi convinceva, il secondo è la forma medio passiva di questo verbo che è episcurizomai, che è questo qua sotto, ho cercato di scrivere decente, episcurizomi, che significa tenere botta e ostinarsi in maniera caparbia, no, a fare, a fare qualcosa, ci sono andato vicino, però in realtà non c'entra niente, ho scoperto che semplicemente, infatti, come pensavo all'inizio, era episciro, è l'insieme di due parole, epi, che vuol dire sopra, e shirus, shiros, era una linea, fondamentalmente, la linea finale, no, la linea del, tipo, la linea della porta, diciamo, quindi bisognava calciare la palla sopra questa linea, in poca parola, vabbè, quindi, interessante questa cosa, è l'antenato del calcio, però, questo, questo icosaidro, questo icosaidro, non mi convince, non è proprio sferico, e quindi, arriviamo ad Archimede, Eureka, eccolo lì, Eureka, che vuol dire, ho trovato l'idea, no, ovviamente, non era riferito, credo, l'icosaidro, però, però è interessante, perché lui ha detto, ma io, se questo icosaidro, questo icosaidro qui, ma se io ci taglio, le punte, e magari viene fornito qualcosa di più simile alla sfera, e smussando questi tipi, questi, questi angoletti, Archimede, matematico, italiano diremo oggi, perché era della Magna Grecia, quindi era sicuro, si era cusano, se non sbaglio, quindi, possiamo dire che chi ha inventato il pallone, sia in qualche modo un italiano, ok, la forma del pallone, perché, che caratteristica ha? Ha il fatto di essere composto, non più da 20 facce, ma di 32, però di cui, 20 sono esagoni, se non sbaglio, e 12 sono pentagoni, però vado a pensare, il famoso pallone, il pallone è quello, quello che, quando un bambino pensa al pallone, cosa pensa? Pensa a quello bianco e nero, no, con le facce, ecco, quello è l'icosaidro di Archimede, l'icosaidro troncato, questo ci interessa, vogliamo fare un icosaidro troncato, e questo è il pallone di oggi, e sapete la ditta, l'azienda che ci ha pensato, ha detto, caspita, l'icosaidro troncato di Archimede, Adidas, negli anni 70, forse proprio nel 70, forse nei mondiali del 70, hanno trovato questa soluzione, quindi hanno detto, facciamo, con il cuoio, facciamo 32 facce, però le facce sono queste 20 esagoni, bianchi, con 12 pentagoni, neri, all'interno, la camera ad aria, che dà la forma circolare, e gonfiando, molto la camera ad aria, quindi dannogli la pressione, queste facce, queste facce, vediamo se ve lo faccio, rivedere, ok, queste facce, che comunque vedete che sono, cioè, sono un po' piane sopra, diventano tondeggianti, no, perché tu gonfi potentemente, la camera ad aria sopra, dentro, scusate, e viene, e questa faccia un po', si allarga, no, quindi diventa semicircolare, e quindi ecco, ecco il pallone da calcio moderno, una specie di semisfera, beh, ci è voluto veramente tanto, però grazie a un matematico, e un matematico italiano, e questo pallone dell'Adidas, era chiamato, Telstar, o sì, Telstar, dovrebbe essere, il modello Telstar, il primo, e che è quello che è rimasto, quasi fino ad oggi, fondamentalmente, si stanno ancora facendo, qualche, delle migliorie, negli ultimi anni, per esempio adesso, non ci sono più le cuciture, ma saldano le facce, con la temperatura, a livello termico, termicamente le saldano, e questo consente, di avere ancora di più, una forma sferica, per concludere, vi racconto, un piccolissimo aneddoto, questa struttura, no, pensate, vabbè, quanto caspita, siamo geniali, a pensare all'icosaedro, troncato, gonfiato, con il coso, la natura, ci stupisce sempre, o meglio, la natura, supera sempre, la nostra fantasia, adesso l'ho costruita bene, questa frase, infatti, negli anni, 90 circa, è stato scoperto, un atomo, in delle, nebulose, interstellari, che aveva proprio, questa forma, sapete come si chiama, si chiama il fullerene, perché fuller, dovrebbe essere, lo scienziato che ha inventato, che ha trovato questa cosa, e questo atomo, è proprio composto, da 60, molecole di carbonio, all'esterno, ok, che fanno proprio quella forma, lì, tipo del icosaedro troncato, con all'interno, una molecola di azoto, grossa, quindi fondamentalmente, una molecola, un atomo, quindi fondamentalmente, un reticolo di carbonio, che possono essere le facce, appunto del icosaedro troncato, il nostro pallone, con all'interno la camera ad aria, si potrebbe dire, che è questo atomo di azoto, beh, ragazzi, pazzesco, la natura, aveva già inventato, il pallone da calcio, come lo intendiamo noi oggi, e noi non lo sapevamo, ragazzi, io vi saluto, spero che vi sia piaciuto, questo percorso, questo video, commentatelo, dite la vostra, se avete domande, chiedete, se volete contribuire, al canale, come sempre vi rinnovo, l'abbonamento, che è un sistema appunto, di sostegno, al mio progetto, e io vi lascio, con questa, con questa pillola finale, della natura, che in qualche modo, aveva già inventato il calcio, ci aveva, ci stava proprio spingendo, a giocare a calcio, va bene ragazzi, vi saluto, ci vediamo prestissimo, con nuovi video, anzi, Lautaro, Werner, può interessare? Non dal punto di vista, del mercato, non so, però, dal punto di vista, dei giocatori, ne parleremo, alla prossima.